Una frenata metaforica di altri tempi, quella sulla Valdastico Nord, di quelle con i freni bloccati che lasciano la scia dei pneumatici sull'asfalto e un insopportabile odore di gomma bruciata. Perché con la sentenza di lunedì il Consiglio di Stato ha imposto un brusco stop al sogno di realizzare un collegamento autostradale tra Veneto e Trentino, lungo la direttrice della Valdastico Nord, ribaltando cosa aveva già stabilito anche il Tar del Lazio. A vincere è stato il comitato No A31, uno dei tanti fronti del No presenti nella penisola italiana, in particolare il ricorso del comune di Besenello in Trentino, che blocca proprio l'innesto sull'A31 Valdastico con l'A22 del Brennero. Una scelta che imporrebbe all'intero progetto di essere rivisto, compreso il tratto Veneto, in poche parole un disastro dal punto di vista progettuale. Che fare? Ora arriva nelle stanze di Toninelli, dove i governatori del Trentino e del Veneto si incontrano e dove non basterà tutta la concentrazione del ministro per risolvere in tempi ragionevoli la questione.